ben trovati eh questo pomeriggio nel nostro appuntamento eh se ormai potrei definirlo a cadenza mensile con il dipartimento di MFT questo oggi ma ovviamente con l'offerta formativa della LUM eh oggi ci dedicheremo in particolar modo oggi e domani abbiamo due sessioni di due giornate per permettervi chiaramente di raccogliere nel migliore dei modi d'idee ma anche appunto di scoprirci in maniera un po' più accettino più approfondita eh nei dettagli che caratterizzano appunto l'offerta formativa del corso di laurea LM settantasette voglia dire economia e management e quindi laurea magistrale in questo caso quindi il biennio consecutivo alla laurea triennale quindi quest'oggi abbiamo eh il corpo accademico che eh appunto costituisce il nostro fiorello occhiello eh che ci racconterà da che cosa da quali percorsi è composta la laurea magistrale in economia e management le peculiarità le novità per quest'anno accademico ventidue ventitré ma soprattutto avremo modo anche di approfondire eh gli aspetti più pragmatici di questo corso di laurea quindi gli sbocchi lavorativi e anche chiaramente eh avremo anche la testimonianza di una studente che ha frequentato e che quindi potrà raccontarvi dalla parte delle studente che significa frequentare un corso di laurea magistrale in economia e management in LUM. Allora io eh chiaramente non mi dilungo eh con troppe chiacchiere perché ci saranno tanti momenti di approfondimento lascio la parola al professor Filippo Vitolla che coordinatore del corso di studi LM settantasette quindi laurea in economia e management laurea magistrale eh salutando ovviamente la direttore di dipartimento professoressa Camila Busseli e il professor Francesco Manfredi che eh appunto eh ci parlerà del percorso in amministrazioni pubbliche e sanità. Prego professor Vitolla. Grazie Anna Maria e benvenuti a tutti. Eh percorso di laurea magistrale LM settantasette in economia e management che rappresenta la naturale eh prosecuzione delle dei corsi di laurea triennale in economia quindi economia e gestione delle aziende aziendali e scienze economiche e statistiche L18 e L77. È vero che si tratta di un corso che ehm fa riferimento comunque ad aspetti eh che presuppongono una cultura economica una cultura aziendalista ma anche è vero che a questi percorsi possono accedere studenti che hanno frequentato percorsi di laurea triennale di tipo differente. Immagino percorsi in giurisprudenza, immagino percorsi in ingegneria, immagino percorsi anche in eh in lingue. Abbiamo eh come vedremo nella giornata di domani un percorso di international management nel quale le competenze linguistiche potranno essere fondamentali. Eh ehm perché cosa si caratterizza questo corso di laurea magistrale? Innanzitutto si caratterizza per una ehm forte dinamicità e quindi eh si tratta di un percorso che è sempre allineato e sempre in evoluzione rispetto a quello che è il contesto economico e sociale di riferimento e quindi in primo luogo ad esempio adattiamo i percorsi rispetto a quelle che sono le esigenze del contesto economico e sociale. Si pensi ad esempio ai processi di transizione digitale ed ecologica eh che impattano in maniera trasversale più o meno su tutti i percorsi di riferimento. Eh si tratta di una eh offerta formativa che è dinamica anche in relazione a quelle che sono le modalità eh di erogazione perché dobbiamo tener conto che eh un corso di laurea magistrale è l'anello di congiunzione fra quello che è il mondo della formazione e quello che è il successivo mondo eh del lavoro. Quindi da questo punto di vista le modalità di erogazione prevedono lezioni eh tradizionali di tipo face to face a cui sono abbinate anche eh modalità più interattive e innovative. Pensiamo a work group, testimonianze aziendali, esercitazioni, laboratori che consentono quindi allo studente di avere una visione eh del mondo del lavoro che è fondamentale ripeto in un percorso che deve preparare e al mondo del lavoro e rappresenta appunto quel livello di eh congiunzione di cui parlavo prima. Un'offerta formativa che si caratterizza e secondo me è fondamentale rispetto agli all' obiettivo di formare eh studenti che siano in grado di eh accedere al mondo del lavoro in modo efficace eh un'offerta formativa che si caratterizza anche per la presenza e per un mix fra docenti eh strutturati quindi accademici e professional che sono in grado quindi di portare la propria esperienza all'interno del eh corso eh di laurea. Il laureato LUM è un laureato poliedrico, il laureato LUM magistrale è un laureato poliedrico che sviluppa competenze quindi integrate in campo giuridico, economico, statistico, matematico che gli consentono quindi di operare con efficacia anche nei contesti aziendali più complessi. Eh per quanto riguarda se passiamo alla slide successiva per quanto riguarda il eh i risultati perché è chiaro che esiste una programmazione ex-ante di quelli di quelli che sono gli obiettivi formativi ma per valutare un corso di laurea magistrale, un corso, un qualsiasi corso di laurea è necessario eh eh riferirsi anche a quelli che sono i risultati e da questo punto di vista i risultati della laurea magistrale in economia e management della LUM sono eh particolarmente rilevanti. Quindi sia per quanto riguarda gli studenti che esprimono al termine del corso di studio una soddisfazione eh molto elevata quindi abbiamo una percentuale di soddisfatti che sfiora quindi il cento per cento allo stesso modo un indicatore particolarmente rilevante è anche quello relativo al numero di studenti che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di laurea e anche in questo caso presenta un indicatore molto elevato. Però eh come sappiamo per valutare un corso di laurea è necessario anche valutare quali che sono le performance per il corso stesso nel mercato del lavoro. Possiamo dire quindi che abbiamo un tasso di occupazione a cinque anni che parli al novanta per cento eh un tempo medio di inserimento nel mondo del lavoro che è davvero bassissimo è eh di circa eh tre mesi una retribuzione media che si presenta superiore rispetto a quella dell'area geografica di riferimento e anche una valutazione una valutazione molto positiva di quelle che sono le competenze in termini di efficacia. Ehm un percorso di un corso di laurea magistrale in economia e management che si articolerà come vedremo in sei differenti percorsi. Oggi eh analizzeremo i percorsi di finance, amministrazioni pubbliche e sanità, amministrazione, finanze e controllo. Domani sarà la volta di international management, innovation management, digital transformation, digital marketing e retail management. Grazie per l'attenzione. Perfetto la ringrazio professor Vitolla per questo escursus iniziale su eh chiaramente quello che è l'obiettivo del corso di laurea LM settantasette ma anche chiaramente su eh alcuni dati importanti che devono chiaramente servire a chi ci sta ascoltando e abbiamo un pubblico insomma abbastanza importante quest'oggi perché ci sono un sacco di persone collegate e ci sono eh appunto c'è molto interesse sulla nostra laurea magistrale quindi oggi come sì come domani vorremmo dare tutti i dettagli quindi invito anche chi è da casa a porre le domande tramite i canali chat che è chiaramente quelli a loro disposizione per poter chiaramente approfondire eh alcune tematiche di proprio interesse. Ci adentriamo quindi ora eh o dopo questo eh questa introduzione sul corso di studi in generale LM settantasette ci ci introduciamo introduciamo e ci addentriamo nei vari percorsi di studi che caratterizzano chiaramente il professor Vitolla ha fatto un escursus in generale ma ci sono percorsi consigliati che riguardano ambiti disciplinari molto differenti. Oggi eh c'è la professoressa Bussoli che tra l'altro chiaramente è il direttore di dipartimento del diciamo di management finanza e tecnologia al quale afferisce la laurea magistrale in economia e management che ci descriverà questo neonato percorso in finance eh che dal ventuno venti eh dal ventidue ventitré si attiverà sempre all'interno dell'LM settantasette. Prego prof. eh grazie Anna saluto tutti buon pomeriggio a tutti ehm è un piacere essere qui ed è un piacere veramente grande per me introdurre questo questo nuovo piano di studi consigliato un piano di studi consigliato che è nato eh grazie al diciamo al desiderio della della governance dell'Ateneo eh del del dipartimento di eh creare un nuovo percorso eh sui temi appunto di eh di natura prettamente finanziaria ma mi preme molto dire che un un piano di studi consigliato che è nato anche su impulso dei nostri studenti che hanno addirittura percorso le strade diciamo più eh come dire formali eh portando proprio loro la loro richiesta alla come attraverso la commissione paritetica in dipartimento e quindi diciamo c'è stata una comunanza di intenti e questo sicuramente mi mi rende mi rende veramente molto felice. Il il percorso in finance l'ha detto la dottoressa Raga è un percorso neonato ehm un piano di studi consigliato che eh cerca di focalizzare eh la preparazione degli studenti su conoscenze e su competenze specialistiche in ambito finanziario ehm quindi i temi trattati sono eh temi riferiti sia alla gestione quindi al management ma anche alla tutti i temi di finance eh ma anche i temi di accounting economics diritto o metodi statistici matematici e tutto questo però chiaramente con l'attenzione a quelle che sono appunto i temi finanziari delle intermediari finanziari dei mercati finanziari degli strumenti finanziari quindi mh si tratta di un percorso che sarà dedicato a coloro che intendono proprio approfondire eh conoscenze di tipo altamente professionale e conoscenze che possano poi essere spese in contesti nazionali ed internazionali che possono favorire assolutamente un efficace inserimento nel mondo del lavoro ehm e che possono consentire appunto di acquisire eh competenze mh anche competenze traversali vi racconterò tra un minuto eh i sui temi del corporate finance sui l'analisi dei mercati finanziari sulla gestione delle istituzioni finanziarie quindi degli intermediari finanziari bancari assicurativi eh dei fondi ehm si tratta di un percorso che mh io di solito non 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 lo faccio cioè dico sempre se volete approfondire il contenuto del piano di studi consigliato quando sono in orientamento dico vi prego di farlo con con calma nel dettaglio però quest'oggi siamo qui appunto per avviare questa fase di di approfondimento e quindi mi fa piacere un po' raccontarvi proprio elencarvi quelli che sono gli insegnamenti per capire meglio come sarà strutturato questo percorso allora ci sarà un primo anno devo dire eh abbastanza denso in cui affiancheremo a dei percorsi che sono già presenti anche su altri eh su altri piani di studi consigliati eh dei percorsi completamente nuovi degli insegnamenti completamente nuovi e quindi avremo metodi quantitativi per le decisioni aziendali abbiamo avremo bilancio consolidato principi contabili internazionali eh financial and business english international and monetary economics economia dei mercati immobiliari asset management management delle istituzioni finanziarie e assicurative e advanced corporate finance and global sustainability quelli che ho appena elencato sono i eh gli insegnamenti che consideriamo come dire mh fondamentali no? Eh del del percorso del primo anno di questo corso di laurea magistrale abbiamo poi aggiunto anche eh due insegnamenti che possiamo definire opzionali che quindi e possono essere scelti in alternativa e sono diritto dei mercati finanziari e project management. Diritto dei mercati finanziari è che eh sarà scelto chiaramente da gli studenti che vogliono eh assolutamente focalizzarsi in maniera molto forte sui temi eh appunto finanziari project management e per chi comunque ha eh ha l'interesse sia ad approfondire temi di natura finanziaria ma non dimentica che bisogna eh conservare anche una mente molto aperta competenze anche ehm differenti ma complementare rispetto a quelli strettamente finanziari. Nel secondo anno troviamo il corso di econometrics advanced il corso di corporate advisory ed investment banking, quantitative finance and asset management e corporate finance law. Attenzione perché in questo secondo anno è forse quello che caratterizza eh di più il percorso in finance perché è fortemente specializzante. Il corso di econometria sarà un corso di econometria avanzato in cui ai nostri ragazzi non soltanto saranno usate le basi eh dell'econometria, uno strumento che serve appunto ad analizzare i dati e che è fondamentale conoscere per chi si approccia a studi di natura finanziaria. Eh ci sono istituzioni finanziarie che addirittura non prendono neanche i ragazzi a fare lo stage se non hanno competenze econometriche. Eh le banche centrali non prendono i ragazzi a fare gli stage neppure gli stage se non hanno competenze econometriche. Quindi è molto importante che vi sia un corso di econometrics advanced dove cercheremo anche di far mettere un po' le mani in pasta ai ragazzi cercando di insegnare loro a a fare analisi dei dati, analisi econometrica di dati finanziari. E poi ci sono tre corsi come vedete denominati in lingua inglese, quelli che ho appena detto, corporate advisory and investment banking, quantitative finance and asset management e corporate finance law, che saranno corsi erogati in lingua inglese. Perché? Perché è assolutamente importante per chi studia queste materie che hanno una intrinseca natura internazionale avere una ottima conoscenza dell'inglese che si comincia a studiare come vedete nella nel già nel primo anno con il a studiare, si comincia ad approfondire già nel primo anno nel eh con il con l'insegnamento di financial and business english ma poi chiaramente si eh approfondisce eh acquisendo anche la fluidità del linguaggio tecnico eh sostenendo degli esami in lingua inglese. Mi piace anche citare quelli che sono gli esami a scelta nel del di questo percorso. Esami a scelta che vi dico subito sono in fase di ampliamento quindi per ehm in in questa offerta formativa che stiamo raccontando sono quelli che vedete behavioral finance and euro finance, blockchain and cryptocurrency, private equity and venture capital, analisi tecniche e tecniche di borsa, sustainable finance, human machine learning and decision making e poi fintech and digital transformation. Però vi dico subito che eh il il corso in finance, anzi il piano di studi consigliato in finance sta suscitando interesse e eh stiamo assolutamente stringendo relazioni, network sempre più più dense e abbiamo professional che si stanno proponendo per altri insegnamenti eh a scelta che arricchiranno la nostra offerta formativa. Tutto questo come vedete per creare che cosa? Per creare un percorso di formazione che ho già detto sarà altamente specializzante e questo è molto importante. Come come riusciremo a raggiungere questi risultati? Con la qualità della didattica senz'altro e questa qualità della didattica dovrà avvalersi ehm di della presenza forte eh assolutamente fortissima di eh rappresentanti del mondo delle delle istituzioni finanziarie eh delle imprese finanziarie ehm del diciamo dei professional di chi opera anche consulenza nel mondo finanziario. Tutto questo sarà fondamentale perché aiuterà sicuramente i nostri ragazzi ad entrare subito in contatto con il mondo un mondo complesso ma che è ancora denso di enormi prospettive di inserimento in termini lavorativi e quindi aiuterà i nostri ragazzi ad entrare immediatamente in contatto con questo mondo e e magari perché no spendersi anche per farsi conoscere. Io adesso non voglio voglio chiaramente eh insomma ehm entrare troppo nel dettaglio però mi fa piacere dire che tra questi professional che che verranno che che hanno già dato la loro disponibilità ad ad assumere incarichi di insegnamento a contratto chiaramente non sto parlando di accademici ma proprio di persone che operano nel mondo delle imprese finanziarie delle istituzioni finanziarie addirittura qualcuno si è talmente entusiasmato da proporsi come coach per gli studenti migliori. Un altro aspetto che mi prima molto sottolineare perdonatemi non so non so se sto andando oltre il mio tempo però poche cose ancora dico e poi taccio eventualmente mi presto le domande che arriveranno eh troppo faccia pure prego anche perché insomma eh è importante come dice lei entrare nei dettagli perché qui ci sta ascoltando e veramente sono tanti ve lo scuro sì sì credo che voglia veramente sapere eh gli aspetti minuziosi del del piano formativo eh anche perché insomma questo è il motivo per cui abbiamo deciso di separare i percorsi per approfondire ciascuno di loro e per dare loro la possibilità anche di guardare eh insieme a eh a voi accademici eh tutti gli aspetti riguardanti l'offerta formativa quindi faccia pure. Grazie grazie. Allora proseguo in questa mia breve eh ma come dire appassionata come sentite descrizione eh sarà delicata attenzione anche ai laboratori. Il dipartimento MFT ha deciso il dipartimento quindi non io ma il dipartimento ha deciso di eh introdurre a fianco ai tirocini formativi dei laboratori. Questi laboratori sono già presenti e ne abbiamo già alcuni presenti nella nostra offerta formativa ma si tratta di attività laboratoriali che andranno a eh a crescere il numero eh in modo tale da mh offrire ai nostri studenti la possibilità di acquisire delle competenze spendibili nel mondo del lavoro e chiaramente anche questo percorso in finance avrà laboratori eh laboratori che serviranno appunto ad acquisire queste competenze. Io vi dico anche tengo molto anche a non trascurare gli esami a scelta. Gli esami a scelta che come vedete sono fortemente specializzanti. Chiaramente voi sapete molto bene tutti che gli esami a scelta sono esami che si attivano soltanto se scelti. Io mi auguro che vi sia eh un entusiasmo per questa offerta formativa e che i ragazzi sappiano poi orientarsi secondo quelle che sono le proprie eh le proprie diciamo attitudini mh peculiari eh ma cercando anche di eh di curiosare in percorsi che sono magari anche a volte meno battuti. Ehm ad esempio mi piace molto sottolineare il il tra gli esami a scelta anche l'esame in analisi tecnica e tecnica di borsa o per consentitemi anche il percorso in behavioral finance e neuro finance che è una assoluta novità e le la Luma eh credo sia ancora oggi l'unica università italiana che offre un percorso di eh behavioral finance e neuro finance. Behavioral finance sono presenti eh anche in altri in altri corsi di studio ma neuro finance è approfondita eh ed è offerta come 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 esame eh come esame appunto ehm specializzante in nel percorso in finance della Luma e non in altri percorsi. ehm io vorrei che trasparisse la mia e la mia passione eh io insieme al mio collega di eh Sex P9 eh sapete che P11 e P9 sono i settori scientifici disciplinari che poi sono dedicati ai temi di finance cercheremo di seguire con attenzione la nascita di questo piano di studi consigliato e mh stiamo assolutamente lavorando per avere a fianco a noi come vi ho detto eh professional di grandissimo di altissimo livello ehm e devo dire eh otteniamo una un bel risultato di passione e di interesse da parte di chi dovrà poi avere questi incarichi di insegnamento a contratto. Quindi io sono sicura che ne verrà fuori un un piano di studi consigliato un percorso di formazione molto interessante molto interessante per i nostri studenti non solo per le competenze specializzanti che si andranno ad acquisire ma anche per le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il mondo della finanza ancora accoglie molto i giovani assolutamente è un mondo in cui è ancora possibile assolutamente trovare lavoro e e trovare anche ehm posizioni di grande di grande soddisfazione di grande prestigio ehm eh insomma di di assoluto di assoluto livello e tutto questo è possibile sia nella regione Puglia che nel nostra nella nostra Italia che fuori dall'Italia. I ragazzi che sono formati nelle università italiane e e i ragazzi che saranno formati eh nel nostro percorso in finance sono sicura non non faranno fatica a collocarsi o ve lo desiderassero anche al di fuori del 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 territorio nazionale anche perché ripeto nel percorso si acquisiranno competenze in lingua inglese che saranno assolutamente spendibili eh anche anche a livello internazionale e questo è assolutamente molto importante. Insomma il percorso è stato costruito in modo da consentire ai nostri giovani di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Ehm e e sarà mia cura come direttore di dipartimento eh ma anche un po' come persona eh che insomma ha aiutato a formare a formare questo piano di studio di consigliato ehm e cercare di seguirlo con con particolare con particolare attenzione. Il il settore il mio il settore il mio è quello del professor Mariani quindi sono sex p zero nove p zero undici che sono i settori dedicati ai temi di finance e quindi sarà nostra cura cercare di assicurarci che la soddisfazione degli studenti sia la massima cercare assolutamente di raccogliere qualsiasi ehm qualsiasi criticità o problema possa possa sorgere si tratta di un percorso che si avvia e quindi ovviamente tante cose dovremmo andarle a a perfezionare in tempi velocissimi ma in linea anche con quelli che saranno i suggerimenti preziosissimi dei nostri studenti. Vorrei continuare ancora a parlare ma spero ecco si sia eh respirata insomma la 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 passione eh veramente l'entusiasmo che ho per questo piano di studi consigliato ehm mi sento assolutamente di consigliarlo ai ai agli studenti che vogliono scriversi alla nostra magistrale. Vi ringrazio. Grazie professor Sambussoli oltretutto insomma anche questa ventata di novità con tutti gli anni essi connessi con i professionisti che da sempre caratterizzano chiaramente il corpo docente della nostra laurea magistrale cioè abbiamo gli accademici ma abbiamo anche persone esterne professionisti nel settore, zendalisti che effettivamente portano all'interno dei percorsi di laurea del percorso di laurea magistrale in qualsiasi percorso l'esperienza professionale necessaria poi per transitare nel mondo del lavoro. Chiaramente sappiamo benissimo che eh l'università eh deve rispettare questi equilibri molto importanti tra la teoria ma anche eh la pratica cioè saper consegnare ai ragazzi gli strumenti utili per poter essere competitivi poi nella ricerca di un lavoro. Un lavoro o di una posizione che chiaramente eh diventa ancora più eh diciamo importante nel momento in cui siano delle competenze trasversali come le ha chiamate lei eh in linea con il percorso di studi che si è seguito. Bene grazie. Un'ultima cosa vorrei dire. Sì. Io mi auguro poi che in questo percorso i ragazzi che avranno delle acquisiranno delle competenze sulla con su strumenti di analisi dei dati vogliano poi tutti accedere a diciamo a a tesi di laurea magistrale e sono sicura che questo genererà un un circolo virtuoso di scambio tra mondo accademico eh mondo eh professionale del lavoro e eh la 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 fantasia le competenze la voglia di fare dei nostri giovani. Anche perché eh chiaramente il tema del dei vari dottorati di ricerca eh industriali eh sono in progress e quindi ci sono tutte eh le carte in tavola e utili affinché appunto si può eh sostanzialmente si avviarsi in questo lavoro di ricerca che chiaramente auspichiamo visto considerato appunto che l'Italia sta crescendo sotto questo punto di vista essere di interesse di parecchi dei nostri studenti. Andiamo avanti ad approfondire il terzo e ultimo percorso per quest'oggi perché abbiamo visto no il il secondo poi approfondiremo anche amministrazione finanza e controllo mi correggo eh andiamo ad affrontare il percorso in amministrazioni pubbliche e sanità. Tra l'altro abbiamo uno studente che è particolarmente interessato perché ha fatto appena una domanda su questo percorso in rappresentanza di questo corso c'è il professor Manfredi che insomma è il deus un po' dell'amministrazione pubblica eh degli insediamenti nell'ambito di amministrazioni pubbliche all'interno della nostra università. Prego professor Manfredi. Grazie alla dottoressa Rago, ad Anna Maria, grazie a tutti voi per la presenza. Parto dalla sintesi dei punti di forza di questo percorso che in realtà è un percorso già solido costruito sette anni fa per rispondere alle nuove esigenze eh formative ma soprattutto alle nuove richieste che le pubbliche amministrazioni e le aziende sanitarie ci facevano. I giovani professionisti motivati ehm capaci di eh produrre o concorrere a produrre innovazione nelle istituzioni e nelle amministrazioni pubbliche. Quindi un percorso eh già rodato con un occhio particolare al mercato del lavoro. Un mercato del lavoro che posso definire oggi ricco di opportunità e di stima. I prossimi tre e quattro anni saranno circa seicentomila i eh giovani professionisti che verranno richiesti dal mercato pubblico nella pubblica amministrazione delle aziende sanitarie. Profili tecnici sicuramente ma anche profili manageriali. Quindi con competenze di tipo organizzativo sui nuovi modelli organizzativi di tipo gestionale e eh di valutazione nella nei processi di allocazione di utilizzo delle risorse economiche così come delle risorse umane. Ma non è il rinchiudersi dentro il recinto di un ospedale o di un comune o meglio non è solo questo. È un percorso che genera opportunità anche a tutti i soggetti che lavorano con la pubblica amministrazione. Faccio un altro esempio. Deloitte Puglia nei prossimi due anni assumerà mille profili professionali molti dei quali saranno destinati ad attività di consulenza eh nelle pubbliche amministrazione e nella sanità. Quindi una grande azienda società di consulenza che dovrà fare il recruiting di professionisti che conoscono bene le pubbliche amministrazione o che opereranno nelle pubbliche amministrazioni. E poi c'è quel grande eh numero di imprese private che sono i naturali fornitori eh delle pubbliche amministrazioni. Penso ad esempio a quelle che forniscono le tecnologie. C'è uno eh strumento che si chiama technology assessment e cioè uno strumento che permette alle aziende sanitarie di valutare il livello di efficacia e di efficienza nei processi di acquisto delle nuove tecnologie. Ehm pensate a tutto quindi il mondo eh dei eh beni e dei servizi legati agli strumenti eh per eh la pubblica amministrazione. E eh quindi pensate a quanto vale questo e all'opportunità che un giovane eh manager che conosce bene eh questi settori può avere eh all'interno di eh aziende fornitrici eh delle eh pubbliche amministrazioni. Ecco perché parlo di un mercato ricco di opportunità e di stimoli perché a trecentosessanta gradi il laureato magistrale eh in economia e management delle eh della pubblica amministrazione della sanità della LUM ha di fronte a sé varie opportunità occupazionali in diverse funzioni e in diverse tipologie di aziende sia pubbliche evidentemente ma anche eh private. Secondo punto di forza eh una faculty che abbiamo selezionato in questi anni di livello nazionale ma anche eh internazionale caratterizzata per essere anche qui una faculty che eh ha trovato il giusto equilibrio, il giusto mix tra ricercatori e eh accademici eh da un lato ma anche professional eh dall'altro. cito solo qualche nome tra i tanti Elio Borgonovi, il professor Elio Borgonovi, il padre dell'aziendalismo pubblico italiano, il professor Marco Meneguzzo eh uno dei più noti eh studiosi internazionali di strategie e meccanismi di eh governo nelle pubbliche amministrazioni, professore Attore Vergate all'Università della Svizzera italiana e a fianco di questi i professionisti come Giovanni Gorgoni, direttore generale dell'Agenzia regionale per eh la sanità e i eh servizi eh sociali, Ares, quindi il centro che progetta l'innovazione e che eh controlla e sviluppa le competenze per la sanità e per il comparto dei servizi sociali, Alessandro Delle Donne eh già direttore generale di ASL BAT e ora direttore generale dell'Istituto Oncologico di Bari, Benedetto Pacifico, dirigente apicale di Regione Puglia e una degli uno degli uomini che eh controlla eh il tema dell'allocazione e dell'utilizzo delle risorse pubbliche essendo direttore del settore gestione risorse economiche e finanziarie. Faccio solo cinque nomi per farvi capire il livello dei nostri docenti, l'importanza di una faculty che accompagnerà i nostri studenti in due anni di ehm grande evoluzione delle loro professionalità ma anche di grande specializzazione, le specialistiche devono servire a questo e questo noi possiamo garantire ai nostri eh studenti così come possiamo garantire eh l'elevato livello di esperenzialità dell'approccio che troverete nei corsi del eh percorso in eh economia e management della pubblica amministrazione e della sanità. Ehm case studies, simulazioni, testimonianze, lavoro sul campo, sta partecipando a ehm questo incontro una eh mia laureanda che già nel percorso alla fine del percorso triennale oggetto della sua tesi tra l'altro ha avuto l'opportunità di lavorare su un progetto della nostra school of management di di riprogettazione l'in di un'area dell'ospedale quindi ha iniziato a fare esperienza sul campo a fianco dei nostri ricercatori e insieme ai professionisti che lavorano eh sul campo. Quale modo migliore per entrare eh dentro i temi e dentro le sfide? Quello di entrare dentro le aziende pubbliche e sanitarie. Così come ci portiamo i nostri laureandi triennali con lo stesso spirito e la stessa motivazione portiamo evidentemente i nostri eh studenti e eh laureandi eh magistrali. Ehm un altro punto di forza del percorso è che all'interno delle aule spesso non si trovano solo ehm giovani eh laureati triennali che continuano il loro percorso formativo ma si trovano anche professionisti laureati in altre discipline magari dopo aver seguito un master ehm proposto alla nostra school of management decidono di completare il loro percorso di approfondimento delle tematiche economico e manageriali eh prendendosi anche una laurea in questo percorso e quindi all'interno delle nostre aule spesso eh c'è questo mix tra giovani eh studenti e studenti professionisti, studenti lavoratori che eh portano evidentemente la loro esperienza e con le quali ci si può eh ancora una volta confrontare in una dinamica eh più di tipo ehm orizzontale eh con eh dei propri colleghi di eh studio. Ennesimo punto di forza eh quello dell'aggancio che i nostri eh corsi hanno con i sessanta master di primo e secondo livello e con i dieci laboratori pratici della nostra school of management che eh supporteranno, saranno a disposizione per eh ulteriormente specializzare sulle tematiche economico manageriali ma anche sulle tematiche eh gestionali i eh laureati della nostra eh specialistica. Ancora una volta eh qui con aule eh che eh vedono una forte presenza di eh professionisti. I nostri dieci laboratori ehm sono centri di ricerca eh che eh connettono la nostra università, la school of management nello eh specifico con il campo, con gli attori che lavorano eh settore pubblico e con le aziende del settore pubblico. Le aziende del settore pubblico, il network, ultimo punto di forza che voglio citare tra i tanti, il network di istituzioni e aziende pubbliche che in questi anni eh school of management e quindi eh la nostra università eh ha ha costruito. Un network che oggi vede eh la la presenza di eh circa duecentosessanta aziende sanitarie di tutta Italia che collaborano con noi nei nostri processi di alta formazione, di specializzazione ma anche che garantiscono stage ai eh nostri eh studenti sia del corso di laurea che eh dei eh master e le più di cento istituzioni pubbliche nazionali che eh ci supportano nelle eh nostre attività. Un grande patrimonio che è comune a tutti ehm a tutte le eh divisioni e eh a tutte le aree della nostra università e che garantisce proprio questo, quello di portare all'interno delle ehm della nostra università eh i professionisti del settore, sia come docenti, sia come testimoni, sia come studenti e eh al contempo poi di poter portare i nostri eh studenti dentro ehm le mura dei nostri partner, dentro quelle aziende pubbliche e sanitari che sono il naturale sbocco professionale ma come ho detto eh il naturale ma non unico eh sbocco eh professionale per i nostri laureati. Qui vedete la nostra offerta formativa non scenderò tanto nel dettaglio è un mix eh tra insegnamenti come dire comuni abbastanza trasversali ma fondamentali penso ai metodi quantitativi per le decisioni aziendali del primo anno, all'econometria eh nel secondo anno che eh permetteranno di affinare strumenti di analisi importanti dei corsi che caratterizzano eh questo eh indirizzo. Dei corsi misurazione valutazione e generalisti il primo anno quindi un corso introduttivo sul concetto di management pubblico e management dei servizi pubblici eh noi abbiamo parlato di istituzioni pubbliche però una parte consistente del mondo pubblico è composta anche da imprese pubbliche e quindi soggetti che erogano servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse che sono come dire un altro naturale punto di atterraggio per i nostri ehm laureati e eh un percorso sulla strategia e sull'organizzazione della pubblica amministrazione con i due temi più eh i due corsi più quantitativi quello sul bilancio pubblico e quello sul controllo sul risk management nelle aziende con un focus particolare sulle aziende sanità. Anche il secondo anno evidentemente ancora più del primo per certi diversi è eh connaturato da percorsi caratterizzanti ehm il settore. Corso mio e di Elio Borgonovi sul tema governance e politiche pubbliche quindi permetterà di far evolvere le riflessioni del professor Meneguzzo eh sulla strategia nella pubblica amministrazione no? Quindi le politiche pubbliche come insiemi strutturati di macro strategie e i modelli di governo soprattutto i eh nuovi modelli di eh governo delle pubbliche amministrazioni concetti di governance che alcuni di voi avranno studiato nel mio corso triennale di economia delle aziende eh pubbliche. Poi c'è il percorso sul sui meccanismi eh finanziari con gli strumenti di finanziamento nella pubblica eh amministrazione e il percorso sui costi standard in eh sanità eh che eh evidentemente si lega al ai temi economico ehm finanziari. Conclude eh gli insegnamenti ehm di base il percorso in diritto sanitario. Ho già citato anche gli eh insegnamenti a scelta economia sanitaria, economie politiche sanitarie quindi un focus eh sul tema ancora una volta sanitaria. Abbiamo grande importanza alla specializzazione di tipo sanitario. Oggi uno dei settori più sfidati e sfidanti, uno dei settori dove il tema dell'innovazione eh della rivoluzione digitale, dei nuovi meccanismi organizzativi, prima citavo il nostro progetto di ehm rivisitazione organizzativa dell'ospedale Emiuli si stanno affermando e si devono affermare per i tanti motivi che eh sapete per altri che condivideremo insieme. Stasera non abbiamo tempo nei prossimi due anni per chi sceglierà questo percorso. Pensate alla grande sfida che le aziende ospedaliere e il mondo della sanità in generale negli ultimi due anni a causa della pandemia ha ha dovuto accettare volente o novellente ad esempio sulla riprogettazione delle operations o sulle riprogettazioni organizzative dei propri spazi eh dei propri ehm processi di gestione delle risorse umane pensate a tutto il tema della sicurezza all'interno eh di queste strutture sia per gli utenti che ammalati soprattutto sia per gli operatori e così via. Ci sono centinaia migliaia di riflessioni che condivideremo insieme ma che ecco immagino che ben ehm capiate quanto sono oggi eh necessarie sono sfide all'ordine del giorno per eh entrambi questi due mondi poi evidente che il mondo della sanità in gran parte è un mondo pubblico quindi quando diciamo aziende pubbliche quasi sempre eh vediamo che a loro al loro interno anche le aziende sanitarie però c'è anche un pezzo importante la sanità che è parte quindi teniamo sempre distinto il concetto di pubblica amministrazione di aziende pubbliche del concetto di ehm aziende eh sanitarie eh in quanto ho richiamato il percorso in costi standard e eh in sanitarie quarto percorso diciamo così che caratterizza le dinamiche economico eh finanziarie all'interno e quindi di valutazione economica all'interno del eh delle aziende non profit e poi c'è ancora in specializzazione un corso in diritto penale la pubblica amministrazione della sanità perché soprattutto i profili applicati ma in generale tutti gli operatori evidentemente ribadisco oggi più che mai hanno da affrontare anche questo eh problema quindi come dicevo un percorso ben strutturato ben definito eh assolutamente coerente con le sfide professionali di giovani professionisti e con delle opportunità occupazionali in istituzioni pubbliche aziende pubbliche aziende sanitarie società di consulenza ehm imprese pubbliche e imprese private eh fornitrici eh delle eh della pubblica amministrazione e della sanità paradossalmente eh uno dei settori quindi questo percorso vuole rappresentare uno dei ehm dei settori che più sono in cambiamento che più necessitano per certi versi cambiamento e il cambiamento spesso è portato da giovani professionisti consapevoli delle dinamiche e quindi responsabili nel loro agire manageriale anche perché formati per affrontare per accettare le sfide per affrontarle appunto in questo modo questo è una sono due delle caratteristiche del pensiero manageriale che noi fin da subito sottolineiamo ai nostri studenti nelle aule di PIA e sanità il tema della consapevolezza la consapevolezza del livello della sfida e dell'importanza della sfida e quindi della responsabilità nell'agire individuale e nell'agire professionale che ogni manager pubblico o sanitario deve mettere nel suo essere professionista in questi settori. Credo di avervi detto le cose principali tante ne rimarrebbero ma voglio sottrare tempo anche ai colleghi di AFC. No grazie professor Roman Fredi è stato veramente esaustivo credo che insomma abbiamo ripercorso il percorso nei singoli esami eh per conseglie appunto per costruire una consecuzione temporale di un'offerta formativa assolutamente mirata indirizzata eh agli approfondimenti sui temi dell'amministrazione pubblica io tra l'altro eh ci tengo sempre a precisare perché comunque abbiamo avuto e abbiamo tuttora un gran numero di ragazzi che frequentano la LM settantasette con indirizzo amministrazioni pubbliche e sanità eh i nostri ex laureati hanno chiaramente ehm diciamo condotto con successo anche i diversi concorsi pubblici che sono stati banditi sul tema quindi questo eh lo dico anche a chi all'utenza che in questo momento può essere interessata a questi temi che è sostanzialmente una proficua frequenza di questo percorso eh e anche una buona preparazione al concorso pubblico eh e quindi una chiave di successo a tal riguardo quindi questa è una cosa che io sottolineo sempre anche negli orientamenti perché ciascuno delle delle degli insegnamenti presenti è sicuramente tema di approfondimento nei vari concorsi pubblici che tra l'altro si stanno susseguendo e che la stessa regione Puglia negli ultimi giorni ha bandito proprio nell'ambito sanità quindi ecco importantissimo se siete interessati da a questo punto di vista eh allora c'è una domanda al riguardo che poi si incrocerà chiaramente a quelli che poi sono i requisiti di accesso quindi professor Manfredi magari la dico dopo e riguarda un ragazzo che eh si è lavorato in farmacia e è interessato a eh diciamo ad ampliare la sua formazione con nell'ambito amministrazione pubblica e sanità chiaramente eh sa dei requisiti di accesso requisiti di accesso che sono fondamentalmente eh abbastanza vari e variegati e sostanzialmente non facenti parte proprio del percorso in farmacia che vi spiegheremo bene dopo la presentazione del professor Vartelli e del professor Vitolla però il quale ragazzo chiede appunto eh che ha saputo appunto che ha anche la possibilità nel momento in cui requisiti di accesso sono veramente tanti di poter frequentare uno stromastro e avere riconoscimento dei famosi sessanta CFU quindi anche lei direttore della school professore può dare anche da questo punto di vista anche dei messaggi trasversali anche se poi rimandiamo il tutto al nostro penday della school management programma poi per il diciotto luglio va bene allora eh do la parola intanto ti ringrazio ancora chiedo magari a Vittorio di cui ho ho letto la comunicazione se magari mi contatta eh via mail perché sul tema farmacia noi con lui possiamo sviluppare un anche un ragionamento quindi insomma ancora meglio come è la lunga la lunga ormai è diventata un'università on demand la cosa più bella è essere smart in un mondo in continua mutazione allora professor Vitolla aggiungiamo all'ultimo dei percorsi quest'oggi in in presentazione domani lo seguiremo con gli altri tre tra l'altro è una domanda di un altro spettatore quello di avere approfondimenti sul percorso in amministrazione finanza e controllo a lei la parola grazie Anna Maria amministrazione eh percorso eh consigliato in amministrazione finanza e controllo ehm devo premettere eh che si tratta forse del percorso classico nell'ambito del corso di laurea magistrale in economia e management eh il fatto eh di riferirvi a un percorso classico non significa eh sottostimare quelli che sono gli elementi di innovazione nell'impostazione e nei contenuti del del percorso stesso quindi si tratta di un percorso che eh presenta caratteristiche eh eh tradizionali da un certo punto di vista ma al contempo presenta elementi fortemente innovativi come andremo eh di seguito a specificare eh nell'ambito appunto della descrizione di quella che è l'offerta eh dobbiamo dire innanzitutto eh come abbiamo detto in premessa nella presentazione generale del del corso di laurea magistrale in economia e management in questo caso ehm rappresenta ancora di più questo percorso la naturale prosecuzione delle e dei corsi di laurea triennale in in economia quindi economia e gestione aziendale e eh eh scienze economiche e scienze statistiche quindi eh qual è il ehm quali sono le competenze che sviluppa questo tipo di percorso? Si tratta di eh competenze innanzitutto di tipo economico e giuridico completate naturalmente dalle eh competenze di tipo statistico, econometrico e eh e matematico. Si tratta di eh competenze che vengono sviluppate in modo integrato e trasversale sia all'interno del percorso e in alcuni casi all'interno dei singoli insegnamenti. Ad esempio quando analizzeremo eh e descriveremo quella che è l'offerta formativa parleremo del del corso eh dell'insegnamento in operazione straordinaria. Insegnamento che sviluppa al contempo tematiche di finanza e quindi di valutazione tematiche di accounting e quindi di rilevazione dei fatti di gestione straordinaria ma al tempo stesso necessita e sviluppa di competenze di tipo eh giuridico. Quindi il la il laureato in questo percorso ha una preparazione specialistica in ambito ehm amministrativo finanziario e di controllo. Tre parole che sono fondamentali all'interno di questo percorso. Quindi è un un laureato che ha forti competenze nell'area amministrativa che al contempo sviluppa competenze anche in area finanziaria e sviluppa competenze in termini di controllo di gestione e controllo interno perché un'azienda che eh non è controllata molto spesso è un'azienda che non è ben gestita. Quindi sviluppare competenze in ambito di controllo significa eh in in ottica di feedback migliorare quelle che sono le competenze di tipo eh gestionale. Quindi il laureato in amministrazione finanza e controllo eh in questo percorso ha una visione completa approfondita ed integrata dei principali processi amministrativi di controllo interno e di gestione e di controllo e e processi di tipo finanziario. Quali sono gli sbocchi professionali? Innanzitutto dobbiamo premettere che eh la funzione amministrazione finanza e controllo è presente nella quasi totalità all'interno della quasi totalità delle aziende e quindi dobbiamo dire che vi sono molteplici e eh molteplici sbocchi possibilità di sbocco professionale. Ehm quali sono quindi gli sbocchi, i profili? Innanzitutto la libera professione ma non una libera professione di tipo tradizionale basata sugli aspetti base di tipo contabile fiscale. Qui stiamo parlando di una professione a tutto tondo che si interessa anche di problematiche di tipo eh di tipo avanzato. Pensiamo alle tematiche di valutazione delle aziende, pensiamo alle tematiche abbiamo richiamato prima l'insegnamento di operazioni straordinarie quindi alle tematiche di M&A, alle problematiche di asset management, alle problematiche di analisi dei mercati finanziari. Quindi stiamo parlando di un consulente che si occupa di problematiche di tipo avanzato e quindi ha una collocazione, un posizionamento nel mondo professionale di un certo tipo di alto livello. Quindi non stiamo parlando del classico commercialista anche se questo percorso prepara anche alla eh professione classica del commercialista ma stiamo parlando di un consulente che si occupa di tematiche in alcuni casi di nicchia, di tematiche che non sono affrontate dalla diciamo in media dai professionisti in particolar modo eh locale. Quindi sbocchi davvero interessanti. Quindi libera professione di tipo avanzato, consulenza avanzato. Naturalmente il laureato in amministrazione, finanza e controllo sviluppa come vedremo poi nell'analisi, nella descrizione analitica dell'offerta formativa sviluppa competenze nell'ambito della revisione e del controllo interno. Per questo motivo può eh eh ambire a eh rivestire quelle che sono eh ruoli nell'ambito della della direzione amministrativa anche tipo apicale di imprese di qualsiasi dimensione di piccola, media e grandi dimensioni. Il laureato eh in amministrazione, finanza e controllo si occupa anche di tematiche più strattamente gestionali legato ai sistemi di programmazione e controllo, ai sistemi di misurazione delle performance. Quindi possiamo dire che sono molteplici le possibilità di occupazione di chi consegue una laurea in economia e management con un percorso consigliato in amministrazione, finanza e eh controllo. Se passiamo quindi alla descrizione analitica di quelle che sono eh di quella che è l'offerta formativa vediamo che al primo anno di insegnamento abbiamo un insegnamento trasversale che abbiamo visto anche negli altri percorsi in metri di quantitativi per le decisioni aziendali. Quindi si sviluppano tutte quelle competenze di tipo statistico che sono necessarie in alcuni ambiti e in alcune analisi eh a livello consulenziale e a livello professionale. Perché è evidente che lo sviluppo di strumenti quantitativi di analisi quantitative è fondamentale per eh fare analisi razionali razionali analisi non soggetti. Poi abbiamo eh l'insegnamento di bilancio consolidato e poi ci sono internazionali e qui iniziamo a vedere come un laureato in questo percorso con questo percorso ehm si occupa di tematiche di accounting ma di tematiche di accounting avanzato quindi non la classica contabilità che naturalmente è prerequisito per poter poi affrontare in modo adeguato eh questo insegnamento ma tematiche relative ai bilanci consolidati cioè i bilanci dei gruppi delle imprese all'utilizzo dei principi contabili internazionali. Oggi sappiamo che le imprese che hanno certe caratteristiche ad esempio le imprese quotate sono imprese che devono redigere i propri bilanci con i principi contabili internazionali e non nazionali quindi è fondamentale conoscere quali sono i principi di redazione anche in ambito internazionale. Eh diritto penale commerciale come dicevamo c'è una ehm una congiunzione tra quelli che sono gli aspetti di tipo economico e gli aspetti di tipo giuridico e quindi in questo caso quali quali sono le problematiche eh penali che possono eh che devono essere affrontate nel momento eh in cui ehm si gestiscono processi di tipo amministrativo commerciale. Business English nel quale eh insegnamento nei quali appunto si sviluppano quelle che sono quella eh che sono le competenze di tipo linguistico specifiche nell'ambito del business. Scenari economici internazionali che ehm è fondamentale mh questo insegnamento di carattere macroeconomico perché nel momento in cui eh come dicevamo prima eh si svolge attività di consulenza a trecentosessanta gradi conoscere qual è lo scenario economico internazionale di riferimento per formulare le strategie impostare il controllo e rilevare. Pensiamo oggi chi si occupa di tematiche connesse quindi tematiche aziendalistiche connesse ad esempio al budget al budgeting e alla programmazione quanto oggi sia fondamentale rispetto alla programmazione del costo dell'acquisto delle materie prime monitorare qual è lo scenario economico internazionale relativo eh quindi alla alla situazione eh in atto per esempio alla alla situazione eh vendita tra russa e ucraina e quindi al conseguente aumento del costo delle materie prime e quindi avere come riferimento un uno un contesto quindi l'analisi di un contesto internazionale diventa fondamentale per programmare in modo efficace. Economia dei mercati immobiliari quindi tutto ciò che è legato quindi alla all'analisi di quelli che sono i mercati immobiliari, i mercati finanziari e di gestione di asset manager. Eh è stato introdotto quest'anno il corso di eh di sustainability disclosure e di integrated reporting in questo caso proprio per eh andare incontro a quelle che sono le attese del comitato di indirizzo, comitato di indirizzo che accoglie al suo interno quelli che sono i rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni che hanno manifestato la necessità che gli studenti eh che i laureati posseggano eh informazioni eh che posseggano competenze che non riguardi esclusivamente quelle che sono ehm le variabili classiche di rendicontazioni quindi di tipo economico finanziario i bilanci ma anche quelle che sono eh le ma anche quelle che sono le tematiche di rendicontazione legati ad aspetti differenti di natura ambientale sociale eh quindi ecologica che sono oggi sempre più rilevanti ehm quindi che assumono sempre più rilevanza in termini di comunicazione agli stakeholder. Corporate evaluation anche questo è un insegnamento che è stato aggiunto quest'anno nell'offerta formativa che riguarda appunto la valutazione delle aziende e le varie metodologie di valutazione al secondo anno abbiamo l'esame di econometria tutto sommato valgono le stesse cose che abbiamo detto per metodi quantitativi per le decisioni aziendali possedere solide basi di tipo eh quantitativo risulta sempre più fondamentale per fare accurati ed efficaci analisi e consulenze. Insegnamento di revisione aziendale e sistemi di controllo interno quindi si sviluppano tutte eh quelle competenze tutte quelle tematiche connesse appunto all'attività di revisione revisione dei bilanci al fine appunto di certificare i bilanci stessi e quindi si sviluppano sistemi di controllo eh interno diritto della finanza d'impresa e in questo caso ricordiamo sempre eh lo sviluppo di competenze integrate fra eh economia management e diritto e quindi se da un lato si affrontano dal punto di vista strettamente tecnico quelle che sono le tematiche di tipo eh che riguardano la finanza in questo esame eh si analizzano quelli che sono e i perimetri dal punto di quello appunto i perimetri dal punto di vista giuridico per arrivare al per completare il secondo anno con l'esame di operazioni straordinarie operazioni straordinarie quindi pensiamo alla cessione alla fusione che sono eh operazioni che ehm appunto straordinarie non non riguardano l'ordinarietà della vita aziendale ma rispetto alle quali eh è necessario sviluppare competenze quindi avere professionisti in grado di poter gestire dal punto di vista giuridico dal punto di vista manageriale e dal punto di vista di di rilevazione quindi di account quelle che sono le diverse problematiche connesse a questa tipologia di ehm di operazioni. Poi abbiamo una serie di esami a scelta che eh che eh appunto completano l'offerta formativa. In parte eh eh rispetto a questo percorso è importante segnalare che nel caso eh si scelga tra questi esami eh contrassegnati dall'asterisco fiscalità professionale d'impresa, diritto tributario internazionale e comunitario, diritto delle procedure concorso A e corporate governance quindi questo percorso eh in in seguito ad una comprensione stipulato con l'ordine dei eh dei dottori commercialisti consente l'esonero della prima prova intermedia per l'abilitazione alla professione. Quindi per chiudere si tratta di un percorso che ehm fondamentalmente eh consente di sviluppare competenze classiche nell'ambito di una laurea in economia per però per come è strutturato consente di eh fornire una visione innovativa e moderna di quella che è l'attività di direzione amministrativa, l'attività di di libera professione, l'attività di consulenza aziendale. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei professor Vitolla. Dunque abbiamo concluso con eh i percorsi eh consigliati appunto quest'oggi chiaramente ne avevamo presi in analisi soltanto tre eh perché continueremo domani ad approfondire con gli altri tre. Sono così minuziosi e particolarmente ehm diciamo eh complessi i nostri percorsi formativi che sono degni chiaramente di degli approfondimenti del caso quindi eh motivo per cui appunto quest'oggi siamo dedicati a finance, amministrazioni pubbliche, sanità e amministrazioni finanze e controllo domani daremo appunto eh diciamo spazio agli altri tre. Quindi eh ci sono eventualmente ehm tra virgolette ci sono eventualmente interessati anche a percorsi domani eh possono anche collegarsi sempre domani alle ore diciotto. C'è una domanda eh credo eh rivolta chiaramente al professor eh Vitolla visto che si parlava chiaramente di amministrazione di finanza e controllo c'è un ragazzo che chiede se conseguendo il massimo controllo interno è possibile accedere a questo percorso in seguito. Diciamo di sì eh è possibile comunque accedere a questo percorso a prescindere dal fatto che si frequenti un master oppure no? Chiaramente nei casi del master come ho detto poc'anzi approfondiremo il passaggio da i nostri master alla laurea magistrale nell'open day del diciotto luglio dedicato ai prodotti formativi della school of management con il professor Manfredi quindi eh visto i tempi distretti posso dare un mi posso permettere una risposta oppure non so la volerà del professor Manfredi eh sì si può accedere ci sono dei riconoscimenti però chiaramente parleremo poi insomma in seguito di questa eh peculiarità. Intervengo solo solo velocemente io per dire certo. Al di là di quelli che sono gli aspetti di tipo burocratico e quindi conversioni possiamo dire con certezza che eh è il naturale il percorso in amministrazione finanza e controllo potrebbe essere il naturale sbocco di chi ha fatto un master in auditing e controllo sono pienamente coerenti poi è chiaro che c'è da valutare le singole conversioni. Eh allora abbiamo altre due domande per chi sempre relativamente per chi proviene da Master Loom quali sono i requisiti? Se sono i requisiti di accesso ne parliamo subito eh a prescindere appunto che si frequenti un master io questo lo devo sempre perennemente dire perché comunque penso che la domanda sta diventando un po' ridondante da questo punto di vista. Avete fatto eh avendo fatto corporate valuation in triennale viene convalidato magistrale oppure no? Eh no perché gli insegnamenti della triennale rimangono quelli della triennale e quelli della magistrale sono con gli insegnamenti della magistrale quindi eh assolutamente non possono avvenire eh burocraticamente delle convalide da laurea triennale alla magistrale perché la magistrale è il proseguito della laurea triennale. Se i professori vogliono aggiungere qualcosa. Sì aggiungo io una cosa è chiaro che le tematiche di base eh sono le stesse però il modo in cui si articola e si sviluppa il corso di corporate evaluation nella laurea magistrale è eh differente rispetto al modo in cui è sviluppato e articolato nella laurea triennale. Formo restando le tematiche di base ma si affrontano temi anche differenti con una prospettiva differente. Temi advance insomma quindi chiaramente mh quindi vi rassicuriamo che comunque non saranno i medesimi temi affrontati ma saranno chiaramente di un livello superiore essendo l'insegnamento della magistrale. Bene allora eh io darei ora spazio velocemente perché siamo abbiamo chiaramente sforato ma non ci piace tanto chiaramente approfondire ogni aspetto e dare voi tutte le risposte ehm diciamo necessarie e le più sostive possibili per poter chiarirvi le idee poi chiaramente rimandiamo a colloqui di orientamento scrivendoci a orientamento.it oppure chiamandoci al nostro centrale un elettronico per prenotare una consulenza individuale eventualmente sia con orientatori sia con i docenti per poter chiaramente eh ancor meglio approfondire quanto stiamo dicendo quest'oggi. Requisiti di accesso della magistrale. Facciamo chiaramente una ehm una premessa. L'accesso alla laurea magistrale è ehm è un accesso eh l'accesso è libero. Non ci sono test di ammissione, non ci sono test di sbarramento ma ci sono dei requisiti. Questi requisiti chiaramente riguardano sostanzialmente la carriera pregressa dello studente, vale a dire la carriera riguardante la laurea triennale o eventualmente master frequentato in precedenza. Una cosa fondamentale eh ci sono tre requisiti fondamentali per coloro che vogliono frequentare la laurea magistrale in economia e management eh e provengono chiaramente da eh una laurea triennale in scienze dell'economia e relazione aziendale o scienze economiche relativamente quindi all'area L diciotto e L trentatré accedono di default eh chiaramente insomma senza dover soddisfare dei requisiti in particolare perché già nel loro percorso della triennale hanno raggiunto quelli che sono le condizioni qua non per la frequenza. Ad eccezione chiaramente del voto di laurea tutti coloro che chiaramente avranno un voto inferiore al novantacinque dovranno sostenere quindi conseguito alla laurea triennale facenti parte di L trentatré e L diciotto dovranno semplicemente sostenere un colloquio di adeguatezza della preparazione su delle tematiche chiaramente renderemo noi note eh al momento chiaramente della dell'interesse o della prima articolazione a questo corso. Eh e quindi è necessario un titolo accademico conseguito all'estero o ritenuto idoneo. Un titolo di laurea conseguito in classe differente da quelle che vi ho appena detto devono avere almeno l'acquisizione di trentatré CFU nei seguenti settori. Ventiquattro nell'area sexp quindi nell'area economica sexp che va dallo zero uno allo zero dodici e eh almeno nove nella nei settori di eh scientifico disciplinare riguardanti l'area giuridica quindi denominati di US. Detto così sembra molto complesso. In buona sostanza coloro che non provengono quindi dalle diciotto alle trentatré devono fornire all'università quindi all'orientamento una autocertificazione sostitutiva che trovano nel loro S3 di l'università di origine se non sono l'UMA magari un IVA e altre università nel secondo S possono ehm chiaramente collegarsi nel portale S3 dell'università e andare nell'area segreteria studenti autocertificazioni e scaricare questa autocertificazione fondamentale perché eh è diversa dal piano di studi perché questa eh documentazione possiede sotto ogni insegnamento sostenuto durante il percorso di laurea a eh la eh nomenclatura del settore scientifico disciplinare di riferimento dell'insegnamento quindi eh al fine appunto di fare una valutazione e capire se ci sono tutti i requisiti oppure no per noi è fondamentale avere questo documento in cui vengono riportati oltre l'insegnamento i crediti informativi corrispondenti anche settore scientifico disciplinare di appartenenza. Inoltre un altro requisiti quindi questi sono i requisiti curriculari ci sono anche eh è richiesta anche la conoscenza di eh della lingua inglese con non inferiore al B uno chiaramente fornita tramite la certificazione internazionale di lingua rilasciata da un ente certificato oppure il l'esame eh aver sostenuto all'interno del percorso di studi della laurea triennale eh l'esame di inglese che quindi torrisponde a un livello P uno quindi eh è sufficiente una certificazione e sarà condiziosine qua non quindi per eh rispondere alla domanda quindi ai fini dell'accesso quindi eh alla laurea magistrale è fondamentale chiaramente eh che coloro che provengono da altri classi diverse da L trentatré L diciotto ma che comunque abbiano conseguito anche un voto superiore al novantacinque come voto finale del conseguimento del titolo sono comunque tenuti a eh oltre che quindi rispettare i requisiti curriculari di cui vi ho parlato anche fare un colloquio sulla adeguatezza e la preparazione sempre su temi che vi forniremo una volta insomma approcciatisi alla ehm all'iscrizione quindi spero di essere stata chiara però ovviamente mi aspetto delle domande quando dunque vogliate approfondire una cosa fondamentale che chiaramente eh ci tengo a precisare è che eh qualcuno mi chiedeva appunto diciamo provenendo dai master i requisiti rimangono sempre i medesimi è chiaro che la frequenza di un master consente di integrare ai a diciamo al percorso di studi già effettuato durante la triennale anche ehm i settori scientifico disciplinare i crediti corrispondenti dei moduli sostenuti chiaramente durante il master quindi questa è l'unica differenza però chiaramente il master non sostituisce assolutamente quelli che sono i requisiti fondamentali e principali che dovrebbero essere comunque ehm deducibili dal eh includibili chiaramente dal percorso di studi completo di settori scientifico disciplinare eh spero di essere stata chiara aver risposto alla domanda del del ragazzo che chiedeva appunto relativamente la frequenza di un master eh ovviamente siamo siamo agli sgoccioli ci tenevamo in maniera particolare a oltre chiaramente a parlarvi di di approfondire questi temi a parlarvi di quello che è l'esperienza l'um di una nostra studentessa che oltre ad aver frequentato da noi l'area triennale master e neanche magistrale la sua esperienza sia da studentessa sia di approccio col placement perché è chiaro che eh un ragazzo che sta per terminare gli studi ha come obiettivo quello dell'inserimento nel mondo del lavoro quindi la dottoressa Giniberti brevemente ci parlerà della sua esperienza l'um della frequenza del corso di laurea magistrale e chiaramente del suo inserimento nel mondo del lavoro ciao Viviana ciao a tutti non so se se si vede se si vede bene ci vediamo benissimo perfetto tra l'altro ti faccio i migliori auguri grazie per la recente assunzione esatto grazie mille grazie a tutti per per la parola la mia esperienza in l'um è stata estremamente formativa e è stata estremamente utile per il mio inserimento a partire chiaramente dal master ehm ho fatto il master il MARIM e successivamente ho appunto frequentato il corso di laurea in amministrazione finanze e controllo sicuramente le le discipline che sono state trattate durante il percorso di studi sono state importantissime a partire anche ehm da quello che è appunto l'insegnamento di mercati immobiliari perché io attualmente sono dipendente in Intesa San Paolo e assolutamente sono state estremamente utili eh tutte quelle che sono appunto le informazioni che ho appreso durante ehm il corso con la professoressa Bussoli ehm eh sicuramente anche eh in tema come dicevamo prima come diceva il professor Vitolla ehm l'accostamento delle discipline economiche con le discipline ehm giuridiche fondamentali è fondamentale e infatti io ho insomma ho insomma ho redatto la tesi con il professor La Scala con tema antiriciclaggio dinamica estremamente utile anche nel nel contesto lavorativo eh quello che appunto faccio in queste in questo momento sono stata appunto appena assunta ehm e quindi per me sono dinamiche che sono state estremamente utili ehm per me è stato importante cominciare eh ad avere un approccio bancario ehm mediante appunto ehm il tirocinio formativo che ho effettuato grazie alla LUM e quindi grazie anche all'aiuto della dottoressa Rago nell'ufficio placement e ho effettuato un tirocinio presso la banca di credito cooperativo di Bari ed è da lì che ho iniziato appunto la mia esperienza in ambito lavorativo frequentando ancora appunto il corso di laurea ehm è stato importante perché successivamente mentre ancora studiavo eh sono stata assunta da una società di consulenza che lavorava appunto con Intesa San Paolo e successivamente in tempi molto brevi eh tra la laurea e appunto il lavoro sono riuscita anche appunto a ad essere dipendente Intesa da qualche mese eh e questo per me è stato importante non non la LUM per me è fondamentale eh la consiglio consiglio il percorso di studi perché tutto ciò che noi ritroviamo eh da un punto di vista teorico non è mai affrontato solo ed esclusivamente in ambito teorico è sempre visto con un approccio ehm più dinamico e estremamente ehm una visuale completamente diversa da quella che è l'approccio eh solo sui libri e solo ed esclusivamente eh studiare eh sì è importantissimo studiare ma l'atto pratico è quello che effettivamente noi mettiamo mettiamo ci mettiamo alla prova e niente che dire anche eh è stato estremamente importante anche quello che abbiamo affrontato col professor Vitolla appunto perché nel nel contesto dell'ambito di consulenza eh come diceva anche prima ehm si ha una formazione mh una visuale molto più ampia molto più professionale e quindi quando effettivamente ehm abbiamo eh dovuto appunto effettuare degli analisi degli scostamenti in ambito di consulenza ehm è stato importante quello che appunto avevo imparato durante il 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 mio percorso quindi nulla è lasciato assolutamente al caso anzi è tutto estremamente ehm studiato per poter appunto entrare in quello che è l'ambito della consulenza e successivamente poi magari per chi avrà un percorso simile al mio anche in ambito bancario bene penso che tu sia stata abbastanza esaustiva oltretutto insomma tu rimani sempre una delle nostre noi abbiamo noi siamo spezzati tutti gli studenti e la cosa più bella è vederli crescere tu hai fatto anche la triennale da noi io questa cosa insomma la devo precisare ed è doveroso farlo però chiaramente a prescindere da tutto eh è molto importante quello che dici circa il nulla viene lasciato a caso cioè i percorsi formativi vengono costruiti affinché chiaramente eh possiano possano offrire eh e siano potenzialmente utili a costruire chiaramente quello che sarà la competenza del laureato eh da spendere nel mondo del lavoro chiaramente in un segmento di laureato ormai abbastanza ampio fare la differenza con una preparazione di eccellenza ma anche minuziosa su alcuni dettagli che spesso vengono chiaramente lasciate al caso e sicuramente mi permetto di dire il fiore all'occhiello della nostra università. Grazie Viviana eh auguri per l'ingresso di Intesa San Paolo. Lo ripeto la seconda volta perché noi come come ufficio orientamento come ufficio placement l'orientamento che segue il ragazzo dal momento delle dell'iscrizione nella sua durante tutta la sua vita la sua carriera è chiaramente al momento dell'accompagnamento al mondo del lavoro eh conosciamo eh i desideri le paure ma anche l'ambizione dei ragazzi. Viviana la ricordo in tanti colloqui e ricordo sempre il mio palino è la banca eh la banca è diventata la tua professione e nonostante tu dicessi che la banca effettivamente la vedevi tanto lontana perché la vedevi come un mondo irraggiungibile con le competenze giuste è diventata una realtà concreta. È il che chiaramente siamo orgogliosi di te e ovviamente siamo felici eh perché il tuo successo è il nostro successo al doppio. Grazie Viviana. Grazie Viviana. Io chiaramente su queste testimonianze sono quelle che mi piacciono di più perché sono sostanzialmente quelle che raccontano effettivamente oltre che chiaramente l'importante è l'approccio accademico raccontano quello che è veramente eh vivere la luma. Grazie Viviana. Eh abbiamo un'ultima domanda. Sì un'ultima domanda è eh quindi con la laurea triennale in economia con voto novantacinque mi posso iscrivere senza colloquio? Sì si può iscrivere senza colloquio. Se ha una laurea triennale in economia quindi classe L diciotto o L trentatré. Bene dicio diciannove ventisei abbiamo svolgato leggermente ma sono felice di averlo sono sempre felice di sforare quando si approfondisce. Eh un attimo. Ah 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 c'è una domanda. Ah buonasera conseguendo il master quella domanda che è stata fatta sul master di notizie che in controllo di gestione ha un approfondimento cioè eh il fatto che il il studente viene da una laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali. Eh verrà preso in considerazione sia eh il curriculum quindi sia la diciamo il percorso di laurea triennale con i settori scientifico disciplinari affrontati negli insegnamenti sostenuti e sia chiaramente anche gli ambiti eh di eh relativi agli esami eh ai moduli sostenuti in nel master di notizie che in controllo di gestione quindi sarà fatta una valutazione da parte dell'ufficio orientamento e quindi chiaramente poi insomma eh dico a mh ad Andrea di eh a Vincenzo di eh contattare orientamento che c'è da un punto it per una consulenza. Ok allora noi abbiamo concluso non so se chiaramente c'è qualcuno dei docenti presenti che vuole aggiungere qualcosa. Io ovviamente ringrazio eh il coordinatore del corso di laurea il professor Vitolla che eh con noi ha costruito questo evento passo dopo passo la non per ordine di importanza ovviamente perché altrimenti se dovessi essere accademica dovrei partire dalla professoressa Mussoli però è chiaro che ringrazio tutti in ugual misura eh la professoressa Mussoli direttore di dipartimento e il professor Manfredi. Vi do l'appuntamento domani con gli altri tre curricula che caratterizzano eh la laurea in LUM in Economia e Management quindi LM settantasette saluto il professor Manfredi con il quale eh mi do appuntamento all'open day del diciotto di luglio dove approfondiremo appunto eh in qualità di direttore della school approfondiremo eh tutti i master presenti nella nostra business school quindi chiaramente ci ritorneremo anche sulla laurea magistrale però chiaramente tutte quelle domande relativi ai passaggi le approfondiremo maggiormente in quella circostanza. Grazie professor Manfredi Grazie a tutti e vi do appuntamento a domani. Mi unisco e saluti. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie e buona serata. Grazie.